Grazie per l'invito. La questione è che, insomma, vorrei anche cercare di contestualizzare questa questione dei piani della mobilità sostenibile che ci derivano dal libro bianco del 2001 e poi dalla revisione del 2011, cercando di contestualizzarlo in questo momento storico, a Modena e in questa situazione. Allora, io credo, prima di entrare nel mezzo, non neanche neanche delle tecnicalità, perché il PUNS, tutto sommato, di tecnicalità, dal punto di vista del PUNS, è un piano strategico, non ha delle tecnicalità se non derivate da altri tipi di piani, cioè dall'analisi del traffico, dalla modellistica, dall'analisi di benefici, da tanti elementi che concorrono. Ma io vorrei parlare proprio del fatto che oggi, credo che a Modena, è la prima moda, sono maturate, secondo me, le condizioni per poter iniziare e portare a termine insieme sia il piano regolatore, cioè il famoso PSC, che è il piano della mobilità sostenibile. Normalmente un buon piano regolatore contiene in sé quasi tutti gli elementi che, cioè un buon piano regolatore, di fatto, contiene anche un buon piano della mobilità sostenibile. Se ciò non avviene e se non è avvenuto nelle nostre latitudini, purtroppo è perché gli ultimi piani in cui abbiamo avuto, la causa principale, io credo sia stata quella dell'Ozzo, cioè quello di aver suddiviso la città in tante monofunzioni e qui non c'è niente da fare. Questo ha portato, invece di una mixité di destinazioni di uso e funzioni, ha portato a una parcializzazione e da qui a una mobilità incrementale difficoltosa, costosa, sia dal turista ambientale che dal turista alla salute che dal turista alla sicurezza. Oggi però, come dicevo, è come se ci fossero avvenate le professioni di Celestino, io spero che qualcuno abbia sapeva cosa sono i libri delle professioni di Celestino, oppure se non lo sa, e io credo che ci sia una sorta di allineamento millenario dei pianeti, che non è mai successo, a Modena però non sia mai successo, e che per la prima volta, anche in assenza di un piano approvato dei trasporti regionali, per la prima volta avviamo. Dobbiamo essere, siamo all'avvio, no? I giorni, i mesi, è già stato avviato il piano sotto lì, un percorso per il PSG. Tutti quanti, almeno il Consiglio Comunale, tutti condividono il consumo zero di territorio, è un concetto che è passato, ha avuto un po' di qualche problema, ma ormai credo che si è accettato da tutti. Tutti stanno accettando anche la questione della destra urbana, quindi che è un caposaldo della mobilità sostenibile, contrapposto allo scrolling urbano, cioè alla diffusione. Tutti siamo d'accordo, almeno, gli atti formali e ufficiali sul fatto che si va e si deve andare verso una rigenerazione e riqualificazione sia degli edifici che delle aree, sia delle aree private, ma anche degli spazi pubblici intesi come tali, e Piazza Roma è uno spazio pubblico che va in quella direzione lì. C'è nata una profonda revisione della legge urbanistica regionale, che credo, spero anche, che non ho partecipato, ma comprenda anche procedure, standard e parametri necessari per intervenire sulla città esistente, perché, guardate bene, se dovessimo oggi intervenire sulla città esistente con la legge 20, in maniera, come dire, come io spero, spicabile, scordiamoci, non ci si riesce, perché, tanto per fare un esempio, se è una zona ad alta densità, oggi dovrei intervenire, no, per rimettere densità e mi si obbliga a mettere, che ne so, un parcheggio o due parcheggi per ogni alloggio, nelle zone dell'abito io, chi conosce Buon Pastore, oppure la zona dei musicisti, cioè se noi facciamo, aumentiamo la densità e aumentiamo il costo dei parcheggi, che è lì dietro delle camera gas, le nostre città, quindi il problema è, per esempio, sulla dotazione di standard e anche di garage, di diminuire, di porre un massimo alla quantità di garage possibili in determinate zone ad alta densità. All'adozione del piano dell'aria, il piano dell'aria è stato adottato, contempla già oggi l'ampliamento delle isole pedonali, delle zone a traffico di militato, l'ampliamento delle zone a chilometro 30, un parametro, direi, sostanzioso, 1,5 chilometri, 1,5 metri di piste ciclabili per abitanti, e tutto in un arco temporale è solo 5 anni. Ha la necessità di ammodernare il trasporto ferroviario, tra Modena e Sassuolo, questo è un dato. Ha la necessità di migliorare il trasporto pubblico, qui è stato toccato prima, secondo me se bisogna arrivare alla necessità di rivetere completamente il modello di revisione, di finanziamento del trasporto pubblico, io sarei ispirato al modello francese, che è quello che è un accordo fra la municipalità e il trasporto pubblico e le imprese, per cui sono anche le imprese che in base al numero viadetti danno contributo al trasporto pubblico. All'investimento di cifre ragguardevoli, mi riferisco al Santo Costino, alla rigenerazione urbana dell'SCM, delle fonderie, l'Otavo Campare, come dire, ci sono già a Modena tutta una serie di grandi questioni urbanistiche alla diagonale che l'assessore ha citato, che quindi oggi tutte queste questioni sono oggettivamente, è un momento particolare, magico, in cui siccome si può tentare di portare avanti insieme sia il piano della mobilità sostenibile, i PUNS, sia il piano del piano strutturale comunale, perché le basi di conoscenza di questi due piani sono identici, non è un caso che nei PUNS in tutta Europa, quando si bandiscono i PUNS, le due figure principali che vengono sulle basi sono, c'è il team transport leader e c'è il team urban leader, queste sono le due figure principali che entrano nella pianificazione della mobilità sostenibile. Quindi io credo che in questo modo qui riusciremo a vedere un connubio tra urbanistica sostenibile e mobilità nuova in cui sia possibile prevedere finalmente urbanità e mobilità, spazio pubblico meno dedicato al parcheggio delle autobus, marciapiedi più larghe, strade più belle, vivibili ed accoglienti, cittadini dove necessario anche dedicate, costie preferenziali per autobus, piccole aree di storia, servizi del commercio, eccetera, eccetera, perché il punto di partenza è poi che in realtà le direttive comunitarie ci dicono che entro il 2030 si dovrebbe dimezzare la quota di trasporto privato nell'area urbana, dunque noi a Modena siamo a circa più o meno 900 automobili ogni 1000 abitanti, se dobbiamo dimezzarlo è arrivare a 400-450, quasi tutte le città d'Europa, quelle che sta piano iniziato già a fare, i piani della mobilità sostenibile e i loro piani volatori hanno quasi tutte deciso che la soglia massima di trasporto privato che si vuole in città si colloca sulle 400 automobili ogni 1000 abitanti. quindi questo è il nostro orizzonte, se noi dovessimo pensare di fare come dire un piano di mobilità sostenibile o un piano di oratore, scordandoci di questi parametri forse faremmo una scelta sbagliata per l'una e per l'altra. Poi, visto che poi il secondo passaggio è, questo è il 2030, ma il 2050 l'obiettivo comunitario è di togliere da tutte le aree urbane i motori e quindi entro il 2050, mobilità del trasporto privato in aree urbane con motori e scordi uguale a zero e contando per il fatto che noi abbiamo un piano regolatore che già oggi ha già fatto i 30 anni, il nuovo piano che faremo anche se potrà avere una durata formale di 10 anni, 15 anni in realtà durerà a 30, quindi noi siamo oggi nella condizione meravigliosa, dico io, perché si possa mettere insieme un bel team, un bel team formato da urbanisti esperti di mobilità, ma non solo tecnici, perché uno degli elementi fondamentali dei PUNS, che è ora qui, è proprio questo, la differenza che c'è fra un piano normale della gestione del traffico, del traffico urbano, come si chiamava, è il piano della vita. Mentre prima il piano generale del traffico si fondava sul, il focus era sul traffico, finalmente il piano di vita sono sulle persone e questo fa la differenza, io credo fondamentale, mentre prima si parlava di flussi e di velocità, oggi si parla di accessibilità alla qualità della vita urbana, all'equità dei suoi spazi, alla salute rispetto all'ambiente, quando dico l'equità, oggi un piano urbanistico o un piano di abilità, noi dobbiamo in tutti i modi riequilibrare, non è una lotta, ma bisogna riequilibrare quelli che sono gli spazi dedicati all'auto privata, quelli che sono gli spazi dedicati al trasporto pubblico, all'ecicliabilità, alla pedonabilità. L'80% di Modena, se voi ci fate caso, non è mica colpa di nessuno, è la storia, è l'avvento dell'automobile che ha travolto tutte le civiltà occidentali e travolge anche quelle orientali, ma oggi come dire, se guardate in un'area non nuova della città, voi avete un marciapiede che è 60-80 cm, non ci si sta in due e se per caso una macchina parcheggia col musetto 5 cm in più, non ci passa neanche una carrizzina per l'incapato, ma non ci passa neanche uno con un bambino mano nella mano, non ci passi neanche tu con la tua fidanzata, non ci passi neanche tu se tieni sotto braccio tua mamma che è anziana o il tuo anziano, sei costretto ad andare in carrizzata, perché questa è la realtà di questa città. Quindi quando si parla di persone, si parla di infrastrutture nelle esperienze che ho avuto e negli accordi che noi abbiamo avuto anche con la EBRD e la BEP per il finanziamento dell'infrastruttura, sono entrati anche i marciapiedi, considerando che i marciapiedi sono la prima delle infrastrutture della mobilità, perché pedoni lo siamo tutti, perché di casa dobbiamo uscire anche per andare all'automobile, abbiamo bisogno del marciapiede, ma soprattutto in certe situazioni, se vogliamo incrementare l'uso del trasporto pubblico, abbiamo bisogno di buoni marciapiedi, perché se io voglio andare a prendere l'autobus, ci voglio andare con un marciapiede in cui non cado, in cui non mi bagno i piedi, in cui non ci siamo gradini, un bel marciapiede, cioè voglio la mia autostrada dei piedi e questo purtroppo oggi ancora non c'è e nella pratica urbanistica, nella pratica edilizia e nella mentalità anche dei trasportisti, questa di marciapiede viene tuttora completamente no. Quindi, rileggendo proprio un focus prevalente sull'auto privata, invece oggi il sviluppo equilibrato di tutte le modalità, diceva bene prima chi mi ha preceduto, l'integrazione fra diverse modalità del trasporto, la pianificazione settoriale e invece bisogna sempre fare una, contemplare pianificazione, io direi basta più la pianificazione settoriale, sempre questi piani, sempre più, un piano della mobilità, anche un piano dell'urbanistica, non può più essere un piano patrimonio dell'ingegnere trasportista dell'urbanista perché veramente comincia ad essere anche stancante. Oggi noi abbiamo bisogno per fare dei piani veri, noi abbiamo bisogno anche di ragionare con i sociologi, di ragionare con psicologi, di ragionare con esperti di viprosenica, con sociologi, con tanti altri, con tanti altri soggetti che costruiscono con noi la città. Una visione delle infrastrutture a lungo termine, a breve termine, che era il piano dei trasporti, noi invece abbiamo bisogno di una visione a lungo termine, quindi la questione della pianificazione secondo me ci sta tutta, cioè non bisogna perdere di vista perché per noi i lungo termine sono le direttive comunitarie che dobbiamo inventarci noi, però è il 2050, è il 2030, sono lì, noi abbiamo siglato dei trattati, abbiamo accettato delle direttive, io credo che vanno bene, e a quelle è il nostro sfogo. Poi come ci arriviamo fa parte della tecnicalità e della volontà politica. Poi il vecchio piano del traffico era improntato quasi sul confine comunale, oggi invece abbiamo bisogno di fare i plums a livello di aria vasta, tanto per dire oggi già tre comuni nell'area nostra, Formigine, Marello e Fiorano hanno iniziato i loro plums. Dominio riservato solo agli esperti di traffico, l'ho già detto prima, team di esperti. Esperti di traffico e di abilità, coinvolgimento attivo per cui io trasmette le persone e i portatori di interesse. Valutazione molto limitata degli impatti, invece messo in opera di un sistema di monitoraggio permanente, strutturato, in grado di stabilire ed evitare. Dunque, i pilasti di un piano di unità sostenibile, cominciamo lentamente a entrare in quelle che sono le direttive su cui devono essere impostati i plums. non lo dico io, lo dice il manuale della mobilità sostenibile. Visione di lungo termine, approccio partecipativo, integrazione di equilibrio modale, valutazione continua delle singole metà di trasporto, in relazione allo spazio pubblico, cioè dobbiamo sempre tenere in mente quanto è lo spazio pubblico, quanto è la destinazione di quel suolo che noi riserviamo alla mobilità. il monitoraggio, l'integrazione orizzontale e verticale di piani e programmi e per la prima volta, almeno in maniera formale, il calco, l'attribuzione delle esternalità dei costi e dei benefici per ogni mobilità di trasporto. Cioè, bisogna per lì e poi, noi sappiamo che quando già ci viene dato sul biglietto del treno, quando prendiamo il treno, c'è scritto tu hai risparmiato x chilogrammi di... se ci mettiamo anche il singolo dell'euro, quindi noi tutte le volte, io spero che quando incominciamo a parlare di parcheggi, spazio che dedichiamo alle auto private, spazio che dedichiamo ai pedoni, eccetera, a fianco, dobbiamo cominciare a mettere il simbolo dell'euro, perché se per altrimenti non ci capiamo più. Cioè, noi sappiamo che quando prendiamo un biglietto dell'autobus che costa 1,50, sappiamo che finanziamo solo per un 33% il trasporto pubblico, tutto il resto è a carico di chi? È a carico dello Stato, dello Stato che siamo noi, quando in realtà ci sono, se non dovessimo calcolare il costo del parcheggio per il valore di mercato e l'uso del suolo, i conti sarebbero ben diversi. Quindi io direi di usare l'esternalità, tra cui queste esternalità non dobbiamo inventarci le nuove coste esternalità, perché c'è il manuale, c'è il manuale Comunità Europea che ti dice esattamente ed è aggiornato anno per anno quanto costa un'esternalità, quanto costa il chilometro passeggero in auto, chilometro passeggero in auto, chilometro passeggero in bici. L'ultimo dato è che il chilometro passeggero in bici guadagna 20 centesimi al chilometro, quindi in realtà chi va in bici dovrebbe avere 20 centesimi che è quello che hanno iniziato a fare in alcuni comuni di Parigi. Bene, quindi, ecco, Parigi, Balbo, questi sono gli esempi, Parigi, Balbo, Gotebo, si sono dati obiettivi misurabili, si sono dati una soglia massima di 400 auto ogni mila di abitanti e hanno deciso che al 2030 il 15% della loro ciclabilità, il 15% sulla ciclabilità, il 30% al trasporto pubblico, il 25% al trasporto privato e il resto entro al 2030, al 2050 il 15% assoluto. Quindi, noi oggi a Modena quanto perdiamo i dati, noi a Modena non abbiamo dei dati precisi, purtroppo, e questo è anche un elemento che io consiglio di iniziare insieme il piano della mobilità e il piano regolatore. Oggi più o meno siamo a circa 9-10% della ciclabilità a Modena, a circa il 10% della mobilità sul trasporto pubblico, come vedete, se al 2030 dobbiamo arrivare, dovessero rapportarci a 900 abitanti ogni mille, 900 auto ogni mille abitanti, voi capite che il percorso è abbastanza, dovremmo muoverci abbastanza in fretta. E se ci muoviamo in fretta, io credo che potremmo anche richiedere sostanziosi co-investimenti anche alla Comunità Europea se ci ponessimo degli obiettivi ambiziosi, come sempre, poi questa città si è posta, e non è che non sia un po' la città si è sempre posti obiettivi ambiziosi, credo che valga la pena continuare a porseli. Perché ricordatevi che solo il piano dell'aria, che prevede entro 4 anni di fatto, perché ancora se non sbaglio non è stato definitivamente approvato, prevede di arrivare al raddoppio delle isole pedonali, al raddoppio della ZTL e prevede di arrivare a 1,5 metri per abitanti, sono obiettivi ambiziosi, ma dobbiamo rispettarli. Quindi, intendiamo allora questa cosa qui, che il PUNS, così come il PSC, poi dopo altri sono gli strumenti, diciamo così, attuativi, il piano urbanistico, e lì il piano operativo comunale, le norme di lezio urbanistico, ma il PSC e il PUNS in quanto tale, sono piani di processo, dobbiamo intenderli addirittura nel paese dove ho fatto il PUNS, ma forse anche in Italia qualche problema ci sarà chi li approva i PUNS, perché da gusto giuridico non è ancora stato stabilito bene chi è la competenza dei PUNS, comunque sono piani di processo, cioè è un nuovo modo, è un modo più partecipativo di mettersi in un grande, di ritornare alla programmazione e alla pianificazione con la differenza che stavolta invece di farlo solo fra esperti e autorità pubbliche, bisogna farlo fra esperti e portatori di interesse i più vari possibili, perché la città è di tutti, non è solo degli automobilisti o del trasporto pubblico, ma è anche dei commercianti, è anche degli anziani, dei pensionati, cioè di chiunque usa la città anche a piedi, anche chi va a piedi dovrebbe essere rappresentato, sia per la parte urbanistica che per la parte della mobilità. Quindi se lo intendiamo come piano di processo, allora il primo passo, e qui entriamo in quel minimo di tecnicalità che le linee guida della comunità europea sul PUNS ti danno, il primo passo è la messa a punto degli obiettivi. Sarà una banalità, ma mettere a punto gli obiettivi come primo punto non è male, noi potremmo anche decidere che al 2030 vorremmo avere, non dico mica 400, 450 veicoli privati ogni 1000 abitanti. Se ci ponessimo quell'obiettivo lì è evidente che tutto quello che ne consegue sul piano del trasporto pubblico, ciclabilità, pedonalità e piano urbano ne è una conseguenza, dovremmo avere una coerenza tra obiettivi e azioni conseguenti e investimenti conseguenti, perché tutto sommato poi oggi tutto si gioca, l'ho detto prima, forse l'ho evitato, ma su tre grandi questioni, connettività, connettività vuol dire mobilità sia delle persone ma anche delle informazioni, quindi la connettività è un dato fondamentale nella pianificazione urbana, nella pianificazione della mobilità, il secondo dato è la densità, non ci voglio ritornare sopra, però è fondamentale che sappiamo che se andiamo avanti verso una città più densa e utilizziamo gli stessi criteri della mobilità di oggi, cioè non ci poniamo di ridurre drasticamente la mobilità delle automobili, noi creiamo sia una città più densa, però creiamo una città a camera gas, quindi bisogna che noi definiamo bene qual è il parametro, l'obiettivo, poi possiamo anche dire che avessi raggiunto al 2030, ci arriveremo al 2035, però un obiettivo rotto. Secondo passaggio, una definizione articolata di modalità di svolgimento del processo di costruzione, quindi questo non è niente di nuovo, il terzo punto è cominciare a fare degli scenari, costruzione, normalmente si usano, se non facciamo nulla, il business is usual, se invece continuiamo a fare come abbiamo fatto fino oggi, e invece cominciare a discutere insieme, e questo è un esercizio difficile, discutere insieme, contestualmente, piano urbano, piano della mobilità, e quindi coinvolge tutta la città su quali sono le alternative qualitative dell'urbanità, che ricordiamoci che io mi riferisco solo a mobilità urbana, non entro nei trasporti in questo momento, anche se il PUNS entra nella logistica, quindi l'uso dei modelli di traffico è importante, però per mia esperienza vanno presi con le molle, perché molte volte i modellisti del traffico tendono a fare degli scenari che poi rimangono solo dei modelli praticamente non usabili, ma chi definisce lo scenario normalmente è la termificazione territoriale ed urbanistica, la base fondamentale. La quarta fase è quella della condivisione e quindi è una sintesi, a un certo punto c'è una sintesi di quello che è venuto fuori, un focus estremamente puntuale sull'integrazione dei modi di trasporto, considerando, lo ripeto, che anche i piedi sono il modo di trasporto più importante, specialmente delle nostre città. E questo vuole dire, apro una parentesi, che incide anche, perché parlo anche sempre in urbanistica, se noi abbiamo, cioè se noi dotiamo la città, se noi per esempio non, uno dei modi più facili per rivitalizzare una zona urbana, anche la degradata è quello dei negozi. Normalmente, se ci sono delle attività commerciali, attività artigianali, insomma, già un viale diventa più appetibile. Se io a piedi, e si è già teorizzato, in Olanda c'è già una scuola di pensiero, non solo da un anno, ma da un anno di qui, decino d'anni, dice guardate urbanistico che la qualità della vita dipende anche dalla qualità della tua strada. se tu a piedi, per andare da qui ad Amiti, devi fare 500 metri e non c'è un negozio, già non c'è più a andarci a piedi, già prenderesti la bicicletta, no? Se ci sono dei negozi, c'è anche la voglia di, quindi il paesaggio urbano è determinato dai piedi e addirittura si dice, gli standard, almeno 15 negozi, cioè già, almeno ogni 100 metri lineari. Quindi, come vedete, già c'è un'evoluzione. Questo non tanto, questo tocca sia la qualità del vivere, la qualità dell'abitare, sia la qualità del tuo quartiere. Cioè, noi dobbiamo fare in modo che la nuova mobilità e la nuova urbanistica sia, a mio avviso, a livello di quartiere sia incentrata, nel senso della walking distance. Cioè, se io per andare a prendere un chilo di tortellini in alcune zone di moda devo fare 6 km o 5 km, o per prendere un chilo di pomodoro e andare solo lì per mercato, è evidente che la città non funziona più. Noi abbiamo bisogno invece di, come dire, sul piano urbanistico, smettere, cioè, bloccare, limitare, non so come dire, ma senza andare contro nessuno, la quantità degli ipermercati, dei grandi supermercati e cercare, nelle nostre città, di avere una diffusione del commercio al dettaglio, più di qualità, a prezzi più accessibili, dove io mi rendo conto che un semmai un negozio vende il pomodoro a 20 centesimi in più e un'altra struttura a 30 centesimi in meno. Ma è anche vero che oggi, se vogliamo, se no, sono parole vuote, se vogliamo approfittare dell'ICT, cioè Intelligent Communication Technology, è sulla logistica che si gioca la qualità dei prezzi nell'ambito della distribuzione commerciale. Quindi anche quello è un tema che fa parte della mobilità. Il sesto passaggio è sul quale bisogna focalizzare un punto che va riferito, la salute, prima di tutto, la congestione, la sicurezza e la protezione delle persone, partecipazione, pianificazione strategica, il cambiamento climatico. Sono tutte cosette, però la salute, quando l'altro giorno, poche settimane fa, noi stati di moda la legge Emilia ha tirato fuori un dato, una ricerca che dice che loro hanno fatto un'analisi per cui in alcune aree a data densità c'è quasi un raddoppio delle leucemie e dei tumori. Un motivo ci sarà e loro non hanno neanche spiegato, non sappiamo qual è, quindi hanno avvertito attenzione, abbiamo rilevato questo dato, però dobbiamo ancora studiare. Quindi è evidente che la salute è una cosa fondamentale, ma nella salute noi dobbiamo metterci anche ritorno alla questione mobilità, pedonalità e ciclabilità. Come dire, la mobilità pedonale e la mobilità ciclabile sono gli elementi maggiori che ci danno all'interno della qualità urbana, del vivere urbano, una possibilità di scampare meglio e quindi avere ottimi marciapietti, ottime piste ciclabili e anche buoni e ottimi mezzi di trasporto pubblico fa parte degli obiettivi di migliorare la nostra salute. L'ultima fase, sono le attribuzioni di responsabilità e le risorse finanziarie per un comincente piano d'azione. Prima di tutto direi che l'analisi di ulti criteri, credo che quasi tutti sappiate cos'è, e l'analisi di costi e benefici sono i due strumenti che dovremmo sempre continuare adottare. Dovrebbe essere una sorta di esercizio sul quale dovremmo imparare tutti, specialmente sulla multicriteria dove, come dire, dobbiamo darci criteri più importanti per andare avanti. Chiarire da subito e fare grandi battaglie anche per le fonti finanziarie. Io prima ho visto gli obiettivi che prima, le slide della dottoressa Diazzi, della produttiva, mi sarebbe piaciuto chiedere qualcosa, di qualche soldino di quei fondi lì sulla mobilità sostenibile. Forse potremmo fare qualche battaglia, forse ancora fare, perché vorrei essere sicuro che i marciapiedi possono essere finanziabili così come una tangenziale o un'altra infrastruttura stradale. Poi, la revisione dei costi per il parcheggio, biglietti e abbonamento in esporto pubblico, ci sono tutti. Poi, l'ottava fase, ad azione formale, uno specifico piano programma, comunicare e diffondere i risultati, credo che questo sia una cosa fondamentale. Purtroppo, nonostante tutto, che diviano state informazioni, però ancora poco spendiamo sulla comunicazione. Pensate solo che, per farvi un esempio, che il comune di Vienna, sarà un comune anche ricco, hanno fatto un piano della ciclabilità, non so dire quanto sia costato, credo alcuni milioni di euro, ne hanno spese più di uno solo per comunicare il piano della ciclabilità. Comunicare ovviamente inteso non nel senso di solo ottenere consenso, solo un'operazione, come dire, di margine, no? Comunicare il più possibile il piano della ciclabilità perché questo fosse effettivo e perché più gente, più persone possano approfittare gli investimenti, che poi sono abbastanza rilevanti, sulla questione della ciclabilità. Quindi, la comunicazione, credo che sia un dato fondamentale. Poi, c'è la nuova fase, è il percorso, diciamo, più il percorso è stato condiviso, in realtà, l'adozione dovrebbe essere quantomeno abbastanza semplice. Decima fase, gestione e esecuzione, ecco, qui forse noi non abbiamo, forse bisogna pensare a qualcosa perché dove ho lavorato si stava pensando di, come dire, nell'identificare le strategie di attuazione, no? E di comunicazione, eccetera, si è pensato anche di chi deve gestire il PUS. Cioè, lo deve gestire chi l'ha fatto? Lo deve gestire solo la parte pubblica? Lo deve gestire solo... Cioè, bisogna trovare un sistema, un dream team, no? Di persone che nel medio periodo, può anche essere cambiato, no? Si è in grado, in maniera quasi indipendente, perché mi rendo conto delle... Ma di gestire un piano della mobilità, ovviamente non in maniera... Qui non è un controllo fiscale che intendiamo, qui è proprio un... Come tutte le volte, di fronte alle difficoltà, tirare fuori le soluzioni, tirare fuori i problemi e credo che molte volte chi l'ha progettato, chi non è sempre quello più adatto poi a... Ovviamente non deve essere scattato, però deve essere coattivato da altre figure. L'undicesima fase, è questa è una... Credo che capitalizzare il processo di risultati ottenuti. Quindi risultati raggiunti, revisione, aggiornamento e l'identificazione dei prossimi tre quali, perché non è che esaurito uno, poi siamo tutti a posto, probabilmente fra dieci... Mettiamo anche che al 2030 abbiamo fatto il nostro posto, eccetera, ma da qui al 2030 cambieranno ancora le cose, ci sarà sempre comunque da valutare nuovi tre quali, nuovi vittime. Grazie. Grazie.